Truffa ai danni dello Stato. Con questa accusa è stato indagato Umberto Bossi come legale rappresentante del partito nell'inchiesta sull'uso dei rimborsi elettorali della Lega. Il senatore risponde in concorso con l'ex tesoriere Francesco Belsito per le finalità diverse rispetto a quelle di partito con le quali sono stati utilizzati i soldi dei rimborsi, in particolare del luglio 2011. Determinanti per gli inquirenti le dichiarazioni di Nadia D'Agrada, dirigente amministrativo della Lega, la quale a verbale ha dichiarato che Umberto Bossi era la persona che firmava i bilanci e i rendiconti del partito. Insieme a lui anche i figli, Renzo e Riccardo, che rispondono invece di appropriazione in debita, causa delle continue spese per uso personale chieste dai due ragazzi all'ex tesoriere. Pier Giorgio Stiffoni, ex segretario amministrativo della Lega Nord, risponde di peculato in relazione all'uso dei fondi del carroccio. La sua posizione sarà trasmersa per competenza alla Procura di Roma, in particolare Stiffoni accusato di avere distratto per uso personale i fondi ricevuti del gruppo parlamentare. Infine l'imprenditore Paolo Scala, già indagato per appropriazione in debita, è stato iscritto anche per riciclaggio.